Ciao a tutti ragazzi, bentornati in una delle analisi tattiche. Quest'oggi andiamo ad analizzare ovviamente Juventus-Napoli che è l'ultima partita disputata in campionato dalla Juventus, un 1-1 che purtroppo per forza di cose ci butta giù, perché sappiamo tuttora che questo gennaio ci dovrà dare una grande dimostrazione di come la Juventus potrà affrontare il resto del campionato, perché ora semplicemente fare il compitino non è più sufficiente, serve qualcosa in più. E ora andremo a vedere la partita di ieri della Juventus, in che direzione è andata. Quindi vi chiedo un mi piace, come sempre, e vi chiedo gli intervi comodi, perché l'analisi tattica è già stata completamente riassunta. Ho anche messo delle frasi che andrò a rileggervi, per dire iniziamo così, vi chiedo ovviamente sempre tutto il supporto possibile e voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti, con le formazioni. 4-3-3 per la Juventus, con chiesa che in realtà parte dalla sinistra, rispetto a come è stato messo graficamente qua dalla Serie A. Ricordo che tutte le informazioni che vedete, immagini e statistiche sono state prese dal sito della Serie A e sono di proprietà della Serie A, glielo solamente riutilizzate per creare il contenuto. Poi Allegri decide di invertire la posizione di chiesa nel secondo tempo e viene spostato a destra da Allegri per provare maggiormente l'uno contro uno con Goulam, che non giocava da tanto tempo come ha messo Allegri nel post partita. Quindi un cambio, non un cambio incredibile, semplicemente un cambio di fascia per due giocatori e vedremo che poi alla lunga questa cosa ha pagato nella creazione di diverse occasioni da gioco da parte della Juventus. Queste sono le due formazioni, il Napoli che invece si affida al suo solito 4-3-1 come avevamo pensato, ipotizzato nella precedente analisi tattica, quella inerente al Napoli. Parliamo del possesso palla. Possesso palla maggiore per quanto riguarda il Napoli, ma come organizzazione del metacampo distribuito viene quasi alla perfezione. Infatti come possiamo vedere il Napoli a 50-50 tra proprio metacampo e metacampo avversario, la Juventus a 51-50, e 49. Entrambe le squadre impostavano da dietro, la Juventus addirittura allargava i due centrali difensivi e lasciava scendere Locatelli in mezzo ai due come terzo in fase di costruzione. La famosa salida La Volpiana, che abbiamo già spiegato anche nell'analisi tattica con il Genua, mi pare che è stata la prima vera partita in cui Allegri e la Juventus hanno provato questa opzione con Locatelli, quindi se volete sapere un po' di più su questo dettaglio, su questa caratteristica di gioco, vi rimando all'altra analisi tattica di Juventus Genua, dove abbiamo analizzato questo e tante altre cose. Poi andiamo a vedere i gol. Questo è il gol di Mertens, il primo gol, quindi il gol del Napoli. Insigne va per vie centrali e allarga sulla destra per Politano. Alexandro è in ritardo sul passaggio di Insigne per Politano e diventa in ritardo per ben due volte perché poi Politano e Mertens scambiano velocemente e come potete vedere dalla figura, Alexandro è il giocatore che sta voltando le spalle all'attaccante del Napoli in area di rigore mentre sta per tirare, ha fatto una giravolta che sembrava una delle ballerine volanti in area di rigore mentre Mertens stava tirando, prova anche a opporsi, la palla gli passa addirittura sotto le gambe. Mertens è molto bravo a trovare l'angolo giusto per il gol e il Napoli avanti su un erroraccio difensivo della Juventus che va a focalizzarsi ovviamente per forza di cose sul singolo che è Alexandro. Qualcuno mi ha detto ce l'hai troppo con Alexandro? Penso semplicemente di dire le cose come sono, nel senso che la Juventus ieri ha sofferto tantissimo la presenza di Alexandro. In questo momento credo che Alexandro sia impresentabile a questi livelli, poi magari migliorerà, poi magari tornerà un giocatore importante. In questo momento qui Alexandro sta facendo una fatica bestiale e lo vediamo sia sul gol che ha subito la Juventus sia nella costruzione del gioco ma ci arriviamo dopo. Il gol di Chiesa invece, allora il gol di Chiesa nasce dall'esterno destro dove Quadrado in posizione ha la palla, al possesso della palla vede in profondità il taglio di McKennie che va ad allungare la squadra. Quadrado gliela passa, McKennie va sul fondo, va a crossare che viene poi il cross respinto dalla difesa del Napoli da Rachmani che va a marcare Morata. Sulla seconda palla arriva velocemente Federico Chiesa che da leggermente dentro l'area di rigore va a insaccare con il destro. Entrambi i gol nascono dalla stessa posizione, infatti come potete vedere sia Mertens che Chiesa tirano praticamente dalla stessa posizione, semplicemente il gol del Napoli di Mertens ha qualche angolo diverso da quello di Chiesa, è più difficile, è un bellissimo gol di Mertens e invece Chiesa è molto rapido nell'esecuzione, nel capire che la palla sarebbe andata lì e che ci poteva essere un'occasione potenziale da gol, quindi veramente un'intelligenza tecnica sia di McKennie che fa il movimento, sia di Quadrado che lo serve, sia di Chiesa di arrivare velocemente sul pallone. Il gol del Napoli avviene a difesa schierata della Juventus, con l'errore del singolo della retroguardia, l'abbiamo già detto prima, e invece il gol della Juve ha delle singolarità, ha delle cose che vanno evidenziate nei singoli, McKennie, Quadrado e Chiesa. Poi andiamo a vedere le statistiche delle squadre. La Juventus ha creato leggermente più del Napoli, se andiamo a prendere tutti i dati, se andiamo a rivederci la partita, le occasioni più grosse e anche le occasioni in generale, la Juventus in generale ha creato leggermente più del Napoli. Ma è proprio questo il discorso, non bisogna focalizzarsi sul numero, bisogna capire quali sono state le azioni più pericolose e non basarci su un dato che può voler dire tutto come niente. Il Napoli ha giocato più di tecnica, è stata una squadra più tecnica, ha giocato a palla a terra e anche nella tre quarti della Juve, come potete vedere, il loro dato sui palloni giocati è molto buono, molto più alto rispetto al nostro. La Juventus invece c'è la solita Juve che si affida ai cambi di gioco, ai passaggi in profondità, spesso e volentieri inizia da dietro e poi cambia tutto e qua diventa importantissimo Lugatelli che sembra il PV perfetto per Allegri nel fare questa roba qua. La Juventus ha effettuato ben 22 lanci lunghi. Nella precisione dei passaggi invece siamo pari, identiche, 88%, ma il Napoli ha fatto ben 100 passaggi in più della Juve, quindi ovviamente non vale tanto la percentuale quanto la percentuale rapportata al numero di passaggi, per quello che prima dicevamo che il Napoli ha fatto una partita più tecnica, se vogliamo, rispetto alla Juventus. La Juve invece che sfrutta molto gli esterni, sì, questo è vero, ma crossa poco rispetto allo solito e questo è un dato. È molto imprecisa perché su dieci cross tentati ne sono venuti soltanto tre, quindi questa va messa in considerazione. Poi c'è il dato inerente alla pericolosità, dicevamo prima la Juventus è stata, se vogliamo, anche più pericolosa del Napoli e la pericolosità della Juve è maggiore nelle azioni manovrate rispetto a quelle in contropiede. Questo è un dato da tenere in considerazione perché spesso e volentieri diciamo che la Juventus sia più pericolosa in contropiede, in questa partita in particolare invece non è stato così. Andiamo ad analizzare le azioni pericolose però perché è quello che dicevamo prima, non vale tanto il numero di azioni, andiamo a pesarle. Azioni pericolose nel primo tempo e quelle con l'asterisco sono quelle che possiamo considerare grandi occasioni dove poteva starci il gol. Al quarto minuto McKennie di testa su calcio d'angolo, impreciso, c'è poco da dire ma aveva impattato bene il pallone che è scialato qua, c'è poco da... Insigne da lontano, alto, questa non è una grande occasione per il Napoli perché Insigne non è andato nemmeno vicino al gol, quella di McKennie sì, quella è una potenziale azione da gol importante. Chiesa da sinistra, tutto il campo, si fa tutto il campo, palla al piede e poi tira quel bolide di sinistro, illusione ottica del gol. Quella è importante, cazzo. Quella è importante, è una delle due, se ne fosse entrata anche solo una delle due, però calcio con i secondi, ma non si fa. Poi c'è il gol di Mertens, se non è un'azione importante, grossa, un gol, non so cosa possa esserlo, l'abbiamo già analizzato prima. Poi c'è un'altra buona occasione per il Napoli, che è la solita azione del Napoli, con l'esterno della fascia di competenza che porta palla, poi vede il giocatore tra le linee, la scarica al centro e c'è il tiro a fuori area. Di Zielinski, che tira a centrale, viene parata da Szczesny, ma questa è un'azione tipica del Napoli, una delle poche azioni tipiche del Napoli che abbiamo visto ieri sera efficace, quindi questa è un'azione pericolosa molto grossa del Napoli. E poi c'è la punizione di Mertens, che finisce alta, quindi niente da segnalare. Primo tempo, con pari opportunità grosse per entrambe le squadre, imprecisa la Juve con Chiesa e McKennie, l'abbiamo detto prima, ma è stato bravo il Napoli a finalizzare quell'errore difensivo della Juventus. Nel secondo tempo, invece, cambia un po' la musica, perché subito la Juve dopo tre minuti con Morata che spara fuori dopo un bel 1-2 con Chiesa, un'azione costruita tra di loro, un bel movimento di Morata a smarcarsi, poi sbaglia completamente l'impatto con il pallone. Al cinquantatresimo c'è il gol di Chiesa, l'abbiamo già analizzato e questo ovviamente è un'azione grossa, quella di Morata no, perché non becca nemmeno la porta, tira dritto per dritto, fuori di 5-6-10 metri, non so neanche dirvi, però sicuramente non si avvicina alla porta. Poi c'è un'altra grande occasione della Juventus, al sessantesimo con Chiesa, che arriva in corsa e poi nella stessa azione McKennie concluderà fuori area, ancora una volta impreciso, ma Chiesa aveva fatto veramente una cosa incredibile su quel tiro. Poi c'è l'azione più pericolosa del Napoli in secondo tempo, che è Mertens in area, lì mi sono sinceramente cagato addosso, ma Mertens tira centrale, Shesny blocca a terra, poi entra Dybala, Dybala un buon appiglio appena entra, recupera un pallone sulla tre quarti, va alla conclusione un po' fiacca, un po' centrale, quindi non è una grandissima azione pericolosa della Juve, ma è uno squillo di Dybala, e poi c'è un po' di tranquillità perché dal sessantaseisimo al novantaquattresimo di occasioni portanti non ce ne sono e c'è quell'ultima azione costruita da Juventus sulla destra, dove Quadrado Crossa va a trovare Kemp che non impatta bene con il pallone. Poi al novantaseisimo, non al sessantanoesimo, c'è Dybala su calcio di punizione che, sappiamo tutti, viene deviato e poi non fa battere il calcio d'angolo l'arbitro da regolamento, tra l'altro, è giusto così. Secondo tempo migliore da parte della Juventus che va vicino al gol, subito, con Morata e Chiesa, l'abbiamo detto, poi la pareggia, subito dopo il pari la Juve ha una buona reazione per cercare addirittura il raddoppio, pericoloso il Napoli appunto con Mertens, e poi la Juve è un po' leggera, sia Napoli che, allora Napoli sicuramente era contento di portare a casa il pari in queste condizioni, la Juventus è stata un po' leggera, invece arriveremo anche alla discussione inerente ad Allegri che ha detto quelle parole in conferenza stampa, anzi, durante la partita che sono state riportate. Azioni pericolose della partita, a grossissime occasioni siamo pari quelle con l'asterisco 4 per la Juve 3 con il Napoli, entrambe le squadre reclamano un rigore, dovere di cronaca lo diciamo, probabilmente pare esserci quello della Juve nel primo tempo su mani di Mertens più che il secondo del Napoli, per quanto mi riguarda il pari è giusto per quanto è stato visto in campo, polemiche arbitrali solitamente le lascio fuori, cerco di analizzare il calcio giocato, giocatori chiave, questo è importante, nel Napoli insigne è stato il giocatore che più di tutti si è preso in mano la squadra e ha creato più azioni pericolose mentre Mertens è stato quello che ha terrato di più, trovando pure il gol. Nella Juventus invece un immenso Federico Chiesa, più un impreciso McKennie, si vede un timido Di Bala quando entra con un paio di occasioni, una piazzata e una su recupero, secondo me Di Bala ha giocato troppo poco, è una delle critiche che ho mosso nei confronti di Allegri nelle pagelle, probabilmente Di Bala almeno un tempo intero doveva fare anche perché in quel momento è lì sotto, quindi Chiesa da una parte e insigne Mertens dall'altro con McKennie un po' impreciso. Analizziamo però le occasioni da gol della Juventus perché McKennie su calcio d'angolo, Chiesa in proprio, azione personale, Morata su azione di Chiesa quindi 1-2 con gli attaccanti, gol di Chiesa, un'azione che nasce e si sviluppa dalla destra, Chiesa in corsa, azione che nasce dalla destra e si conclude invece sulla sinistra con il tiro di Chiesa, McKennie da fuori area che è la stessa azione di prima di cui parlavamo, Di Bala fuori area, pressing e transizione positiva tutta del 10 della Juventus che è il suo cross di quadrado, azione che nasce e si sviluppa dalla destra e Di Bala punizione piazzato. Quindi la Juve ha avuto 9 occasioni da gol di cui bene o male 4 grosse trovando una rete. La Juventus spesso e volentieri ha costruito pericoli dalla destra, 0 pericoli nati sulla sinistra, 0. Analizzando i minuti notiamo che il potenziale offensivo della Juve appunto aumenta quando Allegri decide di cambiare e invertire Bernardeschi e Chiesa, con un quadrado che viene sempre cercato nello sviluppo di tutte le azioni. La Juventus a sinistra soffre e prende gol, l'abbiamo già visto, e non costruisce nessuna azione da gol importante. Nelle precedenti gare invece con Pellegrini avevamo visto che tante volte in azioni offensive Pellegrini stesso andava a proporsi e a creare qualcosa. Non significa che da sinistra non si sia mai costruito, adesso andiamo a vedere il grafico sotto. Significa che in quella zona del campo invece siamo stati incapaci di produrre qualcosa davvero pericoloso, quindi abbiamo fatto qualcosa sì ma che non è mai stato convertito in pericolo. Infatti qua c'è il bilanciamento offensivo della Juventus, come potete vedere da sinistra qualcosa crea, ma poi se andiamo ad analizzare le singole azioni pericolose della Juve sono tutte dall'altra parte. La Juventus è ancora molto imprecisa nelle conclusioni, basta guardare i tiri fuori, i 9 tiri fuori dalla porta di cui ben 5 avvengono all'interno dell'area di rigore stessa. Guardate i puntini, i puntini grigi che abbiamo visto. La Juventus, come abbiamo detto prima, ha costruito di più, 39 azioni di attacco contro il 31 del Napoli, poi di azioni da gol ne ha avuti di più il Napoli, 14 contro 11. Infatti quello che vi dicevo prima non basatevi solo sul numero dei tiri totali perché vuol dire tutto e niente. Andate dentro la partita, andate ad analizzare le situazioni vere e proprie e per quanto mi riguarda, per le situazioni che ci sono state, l'1-1 è il risultato abbastanza giusto. Poi andiamo ad analizzare il baricentro. Allora io non sono mai dell'idea di analizzare il baricentro perché secondo me il dato del baricentro conta semplicemente niente. È importante capire quando si alza, quando si abbassa e perché. Questa secondo me è una cosa più interessante da vedere. Io ora ho questi dati quindi provo a farvi vedere questi. La Juventus ha tenuto un baricentro abbastanza alto, soprattutto nel secondo tempo dove ha trovato azioni più pericolose. Nel primo tempo aveva 53,13 di baricentro, nel secondo 56,87. Questo per dirvi che tante volte mi sento dire la Juve gioca troppo bassa. In realtà la Juve ieri, se dobbiamo guardare il baricentro medio delle due squadre, ha giocato più alta la Juventus sia nel primo che nel secondo tempo, ma questo capite che da solo, come dato, non vuol dire niente. Il Napoli è giocato più contenuto, ma anche esso nel secondo tempo ha alzato il baricentro medio come la Juventus, quindi il primo tempo nel Napoli 45,48. Secondo tempo 48,23. La Juventus è stata più compatta rispetto al Napoli e nel secondo tempo si è allungata molto, quindi difesa e attacco avevano un range importante perché si era sfilacciata un po' la squadra. È qui che nasce il discorso di Allegri sul non farsi prendere dalla fuga. Allegri non ha detto non attaccate più, tenete l'uno a uno, va bene questo risultato, siamo a posto così. Allegri ha detto attenzione a non farvi prendere dalla fuga perché la squadra stava iniziando ad allungarsi troppo. Come l'ha recepito la squadra? È diverso, perché da quel momento in più non ci sono state azioni pericolose fino alle due azioni leggere, quindi il colpo di testa di Ken e la punizione di Dybala che viene deviata in calcio angolo che non viene battuto, ma stiamo parlando del recupero, quindi quella mezz'ora e mezzo poi la Juventus non è stata brava, concentrata a rimanere squadra compatta come invece aveva fatto nell'inizio del secondo tempo, dove aveva fatto una buona prestazione. Quindi la Juventus che si è sfilacciata nel corso del secondo tempo. Conclusioni, cerchiamo di riassumere tutto ciò. Partiamo dalla fase offensiva della Juventus dove assolutamente c'era migliorare, 28 gol in 20 giornate di campionato sono un buttino tremendo e quindi bisogna migliorare. La Juventus è una squadra che attacca, l'abbiamo visto, crea conclusioni, l'abbiamo visto, ma l'importante non è il numero delle palle gol, quello ce ne frega niente, è più la qualità dell'azione, la pericolosità dell'azione, la qualità della palla gol che vai a creare e soprattutto la freddezza nel concretizzare. Ora qua vi metto un confronto con le ultime tre partite di campionato Juventus-Napoli. Ieri la Juve ha fatto più tiri in assoluto rispetto alle altre tre partite, è stata una delle partite in cui abbiamo tirato meno in porta e ovviamente dato che abbiamo fatto un gol su 22 tiri abbiamo una percentuale realizzativa bassissima, la peggiore percentuale realizzativa di tutte le partite. Veneste-Napoli abbiamo tirato tanto trovando sempre un gol brutta percentuale realizzativa. Sono due partite accomunate da questa cosa. Le occasioni del gol della Juventus sono state 11, ci siamo bene o male sulla falsa riga solita e la nostra pericolosità è stata del 56-48%. Siamo poco pericolosi secondo me. Abbiamo bisogno di aumentare quell'indice di pericolosità e come lo fai? Creando più occasioni da gol e concretizzandone di più. Anche questo numero di azioni da gol vi dirò mi va bene, però devi concretizzarle meglio. E questa è la motivazione che mi porta a dire a gennaio ci serve un attaccante freddo in area di rigore, più cattivo, più cinico, perché non abbiamo giocatori a cui aggrapparci per concretizzare determinate azioni che siamo anche bravi a sviluppare. Per quanto riguarda la fase difensiva invece, siamo una squadra che ancora concede qualcosa. L'idea del fatto che abbiamo migliorato la fase difensiva è vero, l'abbiamo migliorata, ma non l'abbiamo aggiustata completamente. Le Juventus è una squadra che non sta difendendo bene al momento, sta difendendo meglio, che sono due cose diverse. Ma continuiamo soprattutto ad avere dei veri e propri blackout, dove i singoli vanno a condizionare la partita. Non è il primo caso in cui un singolo giocatore regala il gol. Anzi, ne abbiamo visto tante volte, con l'Udinese, con il Napoli e l'Andata, abbiamo visto una marea di volte, anche questa volta qua. Col Milan, dove Locatelli perderebbe su un calcio d'angolo, potrei stare qui anni a dire partite in cui abbiamo regalato gol. E a maggior ragione mi viene da dire, se siamo una squadra che davanti stiamo facendo una fatica voglia a segnare anche solo un gol, facendo 22 tiri facciamo un gol, facciamo fatica a fare gol. Cioè è inutile che ci prendiamo in giro, stiamo qua a dire che siamo una squadra imprecisa, che crea ma che non concretizza, che crea ma non finalizza. Quindi se ci mettiamo anche noi a regalare i gol, allora uno più uno a casa mia fa due e alla fine il risultato è uno a uno. Questa è un po' l'analisi tattica è la conclusione che sono arrivato a portarvi all'interno di questo percorso di studio della partita, che mi sono riguardato a spezzettoni. Spero che possa essere stato di vostro gradimento, ma fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti le conclusioni alle quali siete giunti analizzando le situazioni, le statistiche e riguardandovi anche la partita, riguardandovi gli highlights, riguardandovi un po' tutto. Fatemi sapere se siete d'accordo con me. È questo che mi fa arrabbiare. È la solita Juve. È la solita Juve identica, che fa e non concretizza. A un certo punto lascia i punti per strada e ti meriti la situazione di classifica che ti becchia. Questa è la mia posizione.